Un momento storico per Sesto San Giovanni. Dopo 20 anni viene spento il vecchio inceneritore, ormai giunto a fine vita come tecnologia e verrà sostituito da una biopiettaforma, secondo una logica di economia circolare basata sul riuso del rifiuto di scarto urbano. Un progetto innovativo, un progetto unico in Italia e tra i principali a livello europeo che sposa a pieno quelle che sono le linee guida che ha dato anche il governo, ovvero di una rivoluzione verde, una transizione ambientale, un progetto green che è all'interno di tutte le agende politiche delle nazioni a livello europeo sul tema ambientale. Una rivoluzione che nasce dal basso, che coinvolge i cittadini, le associazioni che hanno partecipato, quindi un progetto partecipativo e vede moltissimo il coinvolgimento del territorio. Quindi sono orgoglioso che proprio oggi da Sesto San Giovanni parte la rivoluzione ambientalista per il rilancio del sistema paese.